Alex, Belli e Soleil sorge e sono tra i protagonisti della sesta edizione del GFVIP. L'attore Emiliano e l'influencer nata a Los Angeles non hanno mai nascosto di essere attratti l'uno dall'altra. In molti, però, si sono chiesti se la loro sia semplice amicizia o c'è da... Alex, al contrario di Soleil, è ufficialmente impegnato. Belli è sposato da pochi mesi con la modella venezuelana Delia Duran. Ecco le reazioni della moglie dell'attore all'ambigua vicinanza tra lui e la sorge. Dopo settimane in cui non si parla d'altro che dell'evidente attrazione tra suo marito e la 27enne, Delia Duran ha sbottato. La venezuelana ha usato Instagram per esprimere i suoi pensieri. Qualche ora fa, sia su una storia sia su un post, la moglie di Alex Belli ha scritto una secca frase. A ogni male ci sono due rimedi. Il tempo e il silenzio. I followers della 33enne pensano che si tratti di una vera e propria frecciatina diretta al marito e a Soleil. Il male, che preoccupa Delia sembrerebbe essere proprio la situazione ambigua creatasi tra le mura della casa più spiata d'Italia. Inoltre Delia Duran è stata presa in causa. Proprio da Soleil. Come possibile autrice di un misterioso messaggio anonimo arrivato ieri sera nel giardino della casa attraverso un drone. Nel biglietto ricevuto dagli inquilini c'era scritto. I nostri cuori sono lontani da troppo tempo e non vedo l'ora di poterti parlare guardandoti negli occhi. Alex Belli. Che lo ha raccolto. Ha subito notato che si tratta di parole così generiche che potrebbero essere rivolte a chiunque. Soleil. Dal canto suo. Ha subito pensato che il destinatario avrebbe potuto proprio essere Ale. Secondo l'influencer la moglie dell'attore avrebbe così espresso la voglia di incontrarlo. Altri GFini hanno provato a fare altre ipotesi. Pensando ad un approbabile ex di un inquilino della casa. D'altronde. Nella storia Instagram da lei pubblicata. Delia parla di. Silenzio. Ciò suggerirebbe che non sia lei l'autrice del criptico testo. Tuttora non si conosce la verità. Che potrebbe essere svelata durante la puntata di stasera del GF.